Antonio Varcasia, nella doppia veste di appassionato pescatore e di ricercatore universitario. Da come viene fatto il rilascio dipende tantissimo la sopravvivenza del pesce stesso. Ci spiega come biologia ed ecologia si possono applicare al mondo della pesca sportiva. Insomma, un viaggio fra pesca e ricerca che di fatto è il vero obiettivo della nostra nuova serie. Close up, visti da vicino. Dal 14 ottobre ogni sabato alle 22 in esclusiva su Pesca, canale 236. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS